La rigenerazione urbana nelle città e nel territorio sarà il tema affrontato nel convegno di martedì 15 novembre alle ore 15 presso l'ex convento di San Francesco. Si illustreranno la necessità di innovare le norme urbanistiche vigenti e i casi studio presenti nella città di Pordenone e in altri contesti. Modera ai lavori l'ingegnera Cristina Mirante, assessora all'urbanistica, mobilità, trasporti e viabilità del comune di Pordenone. Parlare di rigenerazione urbana non è semplice, soprattutto riuscire a spiegarla ai cittadini in modo tale da evitare che ci siano delle speculazioni talvolta politiche contro una serie di interventi che servono proprio a rigenerare la città, ovvero a darle una nuova spinta, un nuovo impulso da un punto di vista sociale e economico attraverso la modifica delle sue caratteristiche spaziali, quindi andando a cambiare edifici, talvolta demolendoli e talvolta creandone di nuovi. E sono interventi sia di iniziativa privata sia di iniziativa pubblica. Per farlo il comune di Pordenone ha deciso di promuovere un convegno, che non è un convegno soltanto tecnico, ma è aperto a tutti i cittadini, per spiegare attraverso esempi, esperienze positive e negative che ci sono nel nostro territorio, ma anche in tutto il resto d'Italia e anche altri esempi di tipo europeo che possano spiegare come funzionano i processi di rigenerazione urbana, che hanno tempi lunghi, parliamo addirittura di 20 anni, ma che servono a modificare il profilo delle nostre città, garantendo la continuità degli investimenti privati che portano posti di lavoro e quindi a continuare ad avere un aumento della propria popolazione e la possibilità di dare posti di lavoro soprattutto ai nostri giovani. Parleremo dell'intervento pubblico dell'Ex Fiera, parleremo di interventi privati città, parleremo per esempio del caso della Mittica. Quindi domani al convento San Francesco in Piazza Lamotta sarà possibile a partire dalle ore 15 ascoltare i professionisti e i professori universitari che ci racconteranno la loro esperienza.